Siamo sicuramente un paese, mi permetto anche una regione, insomma dopo ci sono regioni che hanno fatto investimenti e quando parliamo di cultura io condivido l'intervento che è stato fatto prima, attenzione che parliamo anche di scuola, attenzione che parliamo in modo un po' più ampio rispetto poi a quello che abbiamo sentito e su questo ci sono anche altre regioni, parlo per esempio della Toscana dove alcuni investimenti in più e di attenzione in più nella guida proprio anche delle aperture e delle chiusure c'era stata. Comunque al di là di questo aspetto qui il paragone con l'estero io li trovo sempre molto complicati perché se guardiamo poi lo stato dell'emergenza che c'è in Germania che a un certo punto ha deciso di fare un lockdown totale e noi tutto sommato oggi come oggi con dei lockdown non totali stiamo reggendo perché poi purtroppo questo virus è un'evoluzione che non è così facilmente individuabile. Quindi questo paragone io lo trovo abbastanza introprio. Dopodiché che sia una priorità quello di dover riaprire anche i teatri e i cinema con delle forme di contingentamento io penso di sì e credo e spero che sarà una delle priorità che sia governo che regioni hanno ben presente dentro la loro testa. Su questo credo sia un accordo con comunque vedo qua l'assessore con l'assessore è stata fortemente voluta la manovra che era stata fatta nella precedente legislatura di cui abbiamo appena siamo sentito parlare. Quello che mi auguro è che proprio anche in vista di una riapertura perché il mondo del teatro, il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura è variegato, è fatto da molti libri professionisti anche alle volte dimenticati, erano stati dimenticati anche a livello governativo inizialmente. Poi c'è stata una ripresa, abbiamo fatto anche un emendamento a questo bilancio e io mi auguro che possano essere ripresi in considerazione rispetto allo stanziamento di 3,2 milioni di euro 2021-2023 posto nel bilancio preventivo del 2021, appena votato, perché è un mondo che prima giustamente il consigliere Movimento 5 Stelle ha detto molto ampio, di cui nessuno di noi può sentirsi conoscitore pieno. Ecco, quello che io dico in vista di un'apertura della domanda anche del nostro ascoltatore, acceleriamo i decreti attuativi della legge quadro della cultura perché attraverso questi decreti forse riusciamo a avere un quadro un po' più chiaro di come sostenere le diverse realtà culturali. L'assessore ormai si sentirà stanco di sentirmi dire, le reti culturali sono fatti dai grandi operatori culturali ma anche dai piccolissimi operatori culturali. Però è anche vero Zottis, però è anche vero una cosa che la sinistra ha sempre avuto lei un po' storicamente la cultura, cioè la gestione dei teatri, si sa che insomma le associazioni culturali tendenzialmente politicamente non siamo un po' schierate. Sì, dopo che onestamente c'è un po' di trasversalità che siamo andati oltre a questo tipo di schema. Ma finisco dicendo che non dimentichiamoci di tutti i professionisti del settore degli eventi, della fotografia, che fanno parte di questo comparto e che in qualche modo alle volte sono troppo poco sotto i riflettori che stanno soffrendo. E i piccoli operatori culturali, anche teatrali, che devono far parte di quella rete alla pari anche di quelli che sono poi i grandi operatori culturali. Però a me, Gennari, mi sembra... Non ho preso in considerazione su questo, rendo merito. Sì, 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 chiaro, chiaro, chiaro. Siccome la stessa prevede merito che gli emendamenti provengono sempre dal PD che lo aiuta poi alla manovra finale del bilancio.